Ciao a tutti, mi chiamo Gaetano, sono originario della provincia di Avellino, Carife, un paesino della Baronia, ma attualmente vivo qui a Riccione da circa 25 anni e approfittando di questo periodo di quarantena per il colpo di questo coronavirus che ha colpito purtroppo tutto il mondo, abbiamo deciso io e mio figlio di fare questo video e abbiamo fatto un po' un tuffo nei ricordi e gli ho raccontato un po' come è nata la passione per la squadra dell'Avellino. Infatti gli raccontavo dei primi anni 80 quando al mio paese c'era un club di nome Forza Lupi Carife e la squadra era venuta ad inaugurarlo, mi ricordo dei vari calciatori Diaz, che c'era Colomba, Barbadillo, qualcun altro insomma. Ricordo anche le prime partite che ero andato a vedere allo stadio con i più grandi quando insomma mi portavano e ricordo una partita in cui c'era in campo Maradona, insomma vedere giocare Maradona non è cosa da poco. E con gli anni abbiamo avuto l'occasione di andare molte volte allo stadio, la prima volta me la ricordo è stata Coppa Italia di Serie C, Avellino Monza 3 a 0 e poi con gli anni con la promozioni in Serie B ci sono state sempre più occasioni di andare in trasferta. Peccato che in questi anni con le suddivisioni in gironi le occasioni sono sempre meno abitando appunto nel centro nord ed essendo sempre nei gironi del centro e del sud, quindi di trasferte sinceramente abbiamo poche occasioni di andare in trasferta.